Il Presidente della Bulgaria, Fletmieliev, è retornato sulla necessità di proseguire il cammino delle riforme, ascoltiamo Marcella Rossi. Avanti con le riforme, lo ribadisce Napolitano che riceve al Quirinale il Presidente Bulgaro e ricorda che l'Unione Europea sta affrontando una difficile e complessa crisi economica. Per il nostro Capo dello Stato è necessario dare impulso a nuove politiche per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione. Tenendo conto delle situazioni socialmente difficili, critiche che si sono venute a determinare, ma non esitando a proseguire il cammino delle riforme e anche delle politiche di necessaria severità fiscale. Il nuovo Presidente Bulgaro apprezza gli sforzi che sta compiendo il nostro Paese. L'Italia, ricorda Napolitano, ha dato il suo contributo per il superamento della crisi, ha fatto scelte giuste, arrivando alla definizione del cosiddetto fiscal compact. Un accordo internazionale che ci consentirà di consolidare...